I coglioni, e allora adesso ti metto il sangue e il sangue, va bene no? Ah, basta un cazzo, perché quando sferro, 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 predica, va avanti e predica. E non prendo il cazzo, se no poi è un cazzo, va bene, sto buon. No, no, n'è un cazzo. No, no, n'è un cazzo. E non lo vedo questo quale. No, non è direto un cazzo? Tu ove già detto uno fatto? E allora dette? Scusi, è un formaggio popolo. Voi non lo avete aiutato con la semplicità di dare un numero di cappate dove c'era un numero di cappate. E quindi? E quindi stiamo con il tavolo città, con il piano... Ahah. A voi! Che bastardi questi ragazzi. Scusi. Tutti? Sto passando, sto passando, sto passando. Però adesso basta con le parole. Voi avete capito che è capito bene a fine basso, eh? Ok, questo è un po' abbastanza piccato. A me non lo volevo. Io mi deduzco stasera. E allora va bene. Poi si metterà così? Allora è un po' di merda. Che si presenta, fuori, a cucina, vestito così, a predicare. E allora adesso la paletta lì del stancatore. Quattro, ventiquattro, ventotto. Oh, baffo! Un buon c***o con il giorno a pizza, oh! Scusa! Chiama? 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 È un buon c таким comodo. Ma sbattono! Allora adesso levo chiede come c***o è strontellata meglio di più. In destaltò lì ci» « obtain no Aunt proprietary.» «E di carna.» «E eh? Prima? Io tu ce la器o non ti g Councillors. E pisse io pisse io. Certamente. Vi gита il motore io! Mi giocaورate la futa apparten � Autore di formazione.